Finalmente quest'anno, dopo 16 anni che facciamo la stessa Celiano, abbiamo superato più di mille, siamo quasi a 1.200, 1.300 il numero preciso non lo sappiamo ancora. Certamente per Celiano Laghetto, un paesino di 6.000 abitanti, avere mille persone che corrono e oltre è un successo grandissimo. Siamo pienamente soddisfatti del nostro operato, speriamo che con la diciassettesima di arrivare a livelli che superano oltre 2.000.